Ciao, ciao da Galichita! Oggi farò shopping al buio, che vedete, così, con la mascherina. Buongiorgio! Comunque adesso si inizia la sfida, vado a prendere l'ascensore. Qua siamo nel settore biscotti. Oh, buona! Mmm, è un campino rosè. Ehi, buca! Oh, buona! Ehi, buon colpo! Qui siamo nel settore bambini. Oh no! Ma bambini di età! Bambini piccoli. No, questi qua sono cannoli. Sembrano. Aia! Aia! Oh no, ho cazzato, no Questo è per i neonati Neonati ancora, cambiamo settore dai, qui siamo settore patatine Nikita, mi ispira Qua siamo nel settore cani, animali, cibo per animali Buoni Ok, prossimo Ecco qua il mio shopping, sono qua con il mio Wallizino Walliz, ti ho preso anche a te per i premietti, Walliz Che bello, guarda Senti codorino Oh che buoni, senti codorino Allora Walliz Facciamone Ah che mi viene voglia di mangiarli anche a me, allora Seduto, bravo Che buono Soltanto col premietto si siede Dai, dagliene un altro Sì dai Pronto a prenderlo? Fermo No, 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 no Comunque mi sono giudicato delle belle cose e c'era gente che mi guardava veramente male e ho toccato un signore Vabbè, comunque Sai 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 Ciao, ciao da canale Nikita Mettete i like e iscrivetevi al canale Nikita Ciao Ciao Ciao